Era appunto Dr. Felix con Redemption Song e tra l'altro come per maggior ce l'abbiamo qui a fianco, anzi abbiamo questo onore perché davvero noi dall'incirca è una settimana che diciamo venerdì verrà a trovarci Dr. Felix verrà verrà e finalmente ce l'abbiamo fatta. Grazie, grazie veramente a voi, grazie, grazie. Abbiamo parlato di questo tuo ultimo lavoro però adesso vogliamo andare un po' indietro nel tempo, quindi andiamo nel 1987. Vuoi spottonarmi subitissimo? J-Ax che non vuole che nessuno sa quanti anni ha. J-Ax non ti preoccupare che sono più vecchio di te. Ecco, ho messo le cose in chiaro. Mettiamo le cose in chiaro, tranquilli. 25 anni fa quindi sei uscito con la tua prima cover, tra l'altro Billie Jean, il grandissimo Michael Jackson. Sì, sì, Billie Jean rap, un brano che naturalmente io porto nel cuore perché quando ero ragazzino vedevo questo balletto di Michael Jackson, ha visto il balletto di lui? Certo. Lassava la scarpa, si puliva eccetera eccetera, molto bello però non ero soddisfatto. Mi mancava qualcosa. Sì, Michael Jackson, andamento musicale, però non c'era quella cosa che io adoravo nei tempi, che era rap music. Certo. Allora ho detto perché non entrare in studio e fare tipo una versione rap di Billie Jean. Riproporre. Infatti l'abbiamo chiamata Billie Jean rap e ringrazio naturalmente un DJ famosissimo che adesso non vedo da un sacco di tempo che si chiama Marco Trani, Pino Pressa e Agostino Pressa che sono ragazzi di Firenze. Dove siamo fermati per fare questo progetto andando a fare la stagione a Cortina nei anni, pensa. Andavo all'area di Cortina, discoteca area di Cortina, di Giorgio Magrino che riposa in Santa Pace. Per fare la stagione io e Marco siamo fermati a Firenze e io ho messo la voce su Billie Jean rap, etichetta a Durium Records. È ancora a gira. È ancora a gira. Fanno le cose che dopo 25 anni le ascolti e dici ma che cosa ho fatto? Invece il dottor Felix è molto molto specializzato su queste cose qua. Faccio le cose per il futuro, nel passato. Quindi guardi un po' oltre, abbiamo capito la tua filosofia di vita. Sì, è vero, è vero. Perché la musica è come un vestito, bisogna trattarla bene. Vestissi bene, sale bene, eccetera, eccetera. No grunge ovviamente, no grunge. No grunge, no grunge. Perfetto, perfetto. No, la mia domanda era, in tutta, per esempio, guardando anche il disco che ci hai portato oggi di Redemption Song, c'è tutta un partire da un genere, ok, ed esplorare tutti gli altri. Bravo. Che è una sorta di progressive però fatto pezzo per pezzo. Sì. No, quindi domanda un po' più tecnica musicale. Mai fatto un pezzo in cui il progressive lo fai dentro il brano? Ok, quindi parti per esempio da una versione reggae, che ne so, poi dopo la evolviamo nel pop oppure nel rap, eccetera. Se tu ascolti una delle versioni qua, di Redemption Song, e c'è anche il mio grande collaboratore, uno dei miei ragazzi che io chiamo i miei pupilli perché sono i miei figli, ormai alla mia età, capito? C'è Lenny Kaur, DJ Andrea L.P., eccetera, eccetera, sono diversi produttori, ragazzi DJs che suonano bene, eccetera. Se vai ad ascoltare una di queste versioni qua, vedrai che parte tutto tipo electro, si ferma, diventa reggae e poi riparte un'altra volta in electro. Noi facciamo tutto quello che ci sentiamo di fare in quel momento, lì che lo stiamo facendo. Poi, sai, ogni pezzo poi è diverso, Redemption Song viene da un lento, perciò facendolo veloce la puoi rallentare a un certo punto per poi ripartire. Perciò, experimentation, no problem. Sperimentazione, che è la traccia numero 4, giusto, quella di cui stavi parlando. Sì, la numero 4, sì, Andrea L.P., sì, sì. Ok, per chi la volesse ascoltare nello specifico. Perfetto, perfetto. Non solo bello, ma fantastica. Vabbè, addirittura. Grazie. È giusto, è giusto, è qui, non posso... Intelligent and beautiful, we need that in the world, you know what I'm saying? I agree, I totally agree. Vabbè, non puoi non agree, perché ci lavori insieme. Perché se no le prendi. Sono un paraculo, sono un paraculo. No, 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 se onesto è diretto. Allora, ci ascoltiamo Michael Jackson, dato che abbiamo tanto parlato di lui, appunto, con Billie Jean. Billie Jean. Michael J, MJ in the place to be.